Ciao a tutti, come state? Io molto bene, questo qui è un nuovo taglio di capelli, voi amici di TikTok non l'avate ancora visto, l'ho tagliato ieri e ieri ho fatto anche un po' di shopping, quindi adesso vi mostro tutto quanto. Iniziamo con Bershka e la prima cosa è questa borsetta qui, c'è scritto New York Sport Club, io vi giuro che la amo, ha due cerniere, sembra bellissimo. Poi ho preso questa magliettina qui, tutta bucchierellata verde, io non so se questo colore mi sta bene, penso di sì, non lo so, lo scopriremo, comunque questo verde lime sotto ci metterò ore di seno. Poi ho preso queste mollettine qui, tutte colorate, le avevo prese simili ma non le avevo mai utilizzate, queste qui sono un po' più diverse, un po' più grandi, secondo me con questi capelli qualcosa ci esce. Poi per l'ultima cosa ho preso questo top che aspettate, ok è fatto così, è tipo un corsetto di pelle con questa cintura che va qua sotto e dietro ha la cerniera, non l'ho provata però mi sia bene. Infine ho preso questa felpetta qua che penso che metterò con una gonna, secondo me è super carina, con scritto Quacella Valley, boh, carinissima secondo me. Passiamo adesso a Sipora, prima cosa i miei dischetti struccanti giganti, i miei amori. Poi ho preso questo blush di Benefit Terra che infatti è tipo marroncino, l'ho preso tipo quattro volte e lo sto continuando a prendere. Infine ho preso tre prodotti in linea di Ariana Grande che è arrivata da pochissimi giorni in Italia, ora ve li mostro. Ho preso questi due ombretti liquidi di queste due colorazioni, ho preso questo rosato e questo qui nero ma raga vi giuro sono fechissimi. Sono appunto due ombretti liquidi quindi super facili da utilizzare e poi rivedrete. Volevo prendere anche quello blu metallizzato che era uguale alla mia borsa diesel ma era finito. Sempre della linea di Ariana Grande ho preso anche questo rossettino, cioè parliamo del packaging quanto è figo e il rossetto è questo qua, matte. Bellissimo secondo me vi giuro. Fichissimo. Quindi questa colorazione. E infine ho fatto shopping da Dior. Potete già ben vedere il mio acquisto ovvero questa collana, secondo me raga vi giuro è stupenda, io l'amo, l'amo. E mi hanno regalato l'anello coordinato, anche questo secondo me, cioè stupendo. Cosa ve lo dico a fare? Nulla, questo è stato il mio shopping della domenica, fatemi sapere qual è il vostro acquisto preferito e soprattutto cosa ne pensate dei nuovi capelli. E poi nella vostra faccia. Grazie.